Musica Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E subito in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Scontri Pisa e Firenze, il dibattito in aula. Violenza di genere, approvata la legge per la presa in carico e la rieducazione degli autori. Gli scontri di Pisa e Firenze hanno caratterizzato un intenso dibattito nel corso delle ultime sedute del Consiglio regionale. L'episodio nel quale è rimasto coinvolto un gruppo di studenti che manifestava in favore della Palestina con alcuni dei giovani che sono stati manganellati dagli agenti di polizia in assetto antisommossa è giunto nell'aula di Palazzo del Pegaso che ha votato due mozioni. Una presentata da Italia Viva, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, approvata. L'altra, di Lega e Fratelli d'Italia, è stata respinta. Abbiamo assistito veramente un po' inorriditi, preoccupati, anche amareggiati nel vedere che dei ragazzi che manifestavano pacificamente, molti di loro minorenni, sono stati addirittura manganellati. È chiaro che noi vogliamo capire di chi è la responsabilità, se c'è stato un eccesso di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date. Questo lo facciamo anche a tutela di quei rappresentanti delle forze dell'ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere, con rigore, senza eccessi, per tutelare la salute dei cittadini, la democrazia, la libertà di manifestare. Purtroppo quello che abbiamo visto invece in piazza a Pisa e anche a Firenze non apparteneva a questa categoria, ma ci sono stati degli eccessi che sono stati oggetto di critica in primis del Presidente della Repubblica, le cui parole noi sottoscriviamo. I manganelli sono il fallimento, probabilmente, delle istituzioni, dei rettori della comunità cattolica, dello stesso sindaco di Pisa che ha sottolineato come quella città era ed è abituata a vedere altre cose. Secondo l'opposizione le condizioni per trovare una sintesi e quindi proporre un atto comune sui gravi fatti accaduti a Pisa e Firenze ci sarebbe stata. Le proposte sono state due, in effetti, respinte tutte e due dal PD. Quindi continua questa volontà di strumentalizzare questi fatti da parte del Partito Democratico e della maggioranza in Consiglio regionale, così come purtroppo vediamo tante notizie non vere in dichiarazioni fatte dai nostri colleghi della maggioranza. Le proposte erano due. La prima di trovare un atto comune, quindi una sintesi, nei prossimi giorni aspettando domani le dichiarazioni del Ministro Piantedosi che farà in Aula alla Camera per capire anche quali fatti nuovi possono emergere da queste dichiarazioni e ci è stata respinta. La seconda, alla fine, è stata quella di fare un atto molto semplice dove insieme si metteva giù un atto che riprendeva la nota del Quirinale con le parole del Presidente Mattarella e questo avrebbe dato anche un senso importante in questa regione dove sono avvenuti questi fatti. Purtroppo il PD ha respinto queste proposte vuole andare il voto, forte di una maggioranza, per mostrare muscoli ma soprattutto per continuare a strumentalizzare questi fatti e, come si è sentito in Aula, a dare già delle sentenze e delle condanne quando in realtà ci sono delle indagini in corso e quindi credo che da un lato la Procura, da un lato il Ministero e quindi internamente le Forze dell'Ordine debbano procedere in maniera seria. È stata evidente purtroppo la rottura di quel patto sociale di fiducia che c'era tra le persone, i cittadini e le Forze dell'Ordine quindi il chiedere chiarezza e più velocemente possibile sarà l'unica cosa che potrà aiutare a ricucire quel dialogo e quel patto di fiducia appunto che in questo momento a Pisa ma anche a Firenze, in tutta la Toscana direi a livello nazionale sta rischiando di venire di mancare. L'unica cosa evidente è che ci sono stati dei ragazzi, dei minorenni che sono stati picchiati e le parole di Mattarella sono la sintesi migliore di quello che dovrebbe essere l'azione di quello che impropriamente è stato appellato come Stato di diritto da degli europarlamentari e dei parlamentari che invece si sono lanciati in giudizia e a soluzioni semplici. Io ritengo invece che proprio per garantire massimamente le forze dell'Ordine a cui va tutta la nostra stima e il nostro rispetto per il lavoro che fanno ma per tutelare anche il diritto a manifestare la serenità dei nostri ragazzi e delle persone si debba immediatamente fare chiarezza per far sì, per assicurarci che questo sia un caso isolato che chi ha delle responsabilità, chiunque esso sia all'interno della catena di comando o nel teatro delle operazioni paghi per quello che ha fatto perché non è ammissibile che possa far parte della società civile o perlomeno continuare a espletare quelle che sono le loro funzioni questa chiarezza servirà a ricucire appunto un tessuto che si sta sfaldando. Ho apprezzato le parole del sindaco di Pisa ho apprezzato tutte le parole che trasversalmente sono andate verso la ricucitura. Io oggi ho ascoltato una cosa in aula del Consiglio regionale di una gravità inaudita. Io ho ascoltato una forza politica dire che se tu sputi in faccia ad un poliziotto evidentemente quel poliziotto se l'è meritata. È stata richiamata dalla Presidenza del Consiglio la consigliera che ha detto questa frase ma ha aggiunto di peggio ha aggiunto che su questa visione su questa visione per fortuna le forze alternative a questo governo si sono ritrovate, si sono riviste e hanno vinto in Sardegna. Quindi abbiamo appreso oggi in Consiglio regionale che tra le motivazioni per cui la sinistra avrebbe vinto in Sardegna c'è anche una condivisione della lettura dei fatti di Pisa. Ecco, se la lettura condivisa è quella di che chi sputa in faccia ad un poliziotto il poliziotto alla fine sarebbe meritato viva Dio che hanno vinto solo in Sardegna mi verrebbe da dire. Ringrazio il Consiglio regionale della Toscana di aver condiviso la mia mozione chi ha sottoscritto l'atto chi lo ha votato è un atto forte che condanna con fermezza quanto è successo a Pisa e a Firenze la Toscana non è questo e quindi il diritto di manifestare la libertà si esercita non deve essere concessa e soprattutto non deve essere repressa con dei manganelli un atto violento che è stato in primis condannato dal Presidente della Repubblica e oggi arriva l'atto ufficiale e formale del Consiglio regionale della Toscana che condanna quanto è successo prende distanza e chiede chiarezza la Toscana è un'altra cosa la Toscana è una terra di tolleranza di libertà di diritti e come tali ragazzi della nostra regione hanno diritto e dovere di manifestare di esprimere le proprie idee bene che il Consiglio regionale della Toscana abbia assunto questa posizione dispiace perché magari si poteva creare un atto unitario invece abbiamo visto un centrodestra arroccarsi su una difesa impossibile difendere quanto è successo non compete diciamo alle forze politiche da parte nostra va anche la solidarietà ovviamente alle forze dell'ordine in generale per il lavoro che costantemente quotidianamente svolgono ma questo che è successo in Toscana il 23 febbraio è un errore grave come tale andava denunciato e come tale andava condannato e preso la distanza da parte della Toscana il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la nuova legge per la presa in carico e la rieducazione degli autori di violenza di genere a favore Partito Democratico Italia Viva Fratelli d'Italia astenuti invece Lega e Movimento 5 Stelle semaforo verde anche per un ordine del giorno collegato del Partito Democratico approvato a maggioranza a favore Partito Democratico Italia Viva e Movimento 5 Stelle si è astenuto il gruppo della Lega mentre non ha partecipato al voto Fratelli d'Italia il lavoro fatto in commissione un lavoro che ha trovato anche una grande collaborazione con la Giunta con l'assessore Nardini quali sono le novità le novità sono essenzialmente due la prima si riconosce il ruolo di vittime per coloro che assistono violenza e l'altra si istituiscono a livello regionale gli elenchi dei centri per gli autori di violenza da questo punto di vista si è resa necessaria una revisione della normativa del 2007 una normativa a cui aveva lavorato ai tempi la regione toscana e che era una normativa all'avanguardia che aprì anche una strada per le altre regioni per una legislazione nazionale in materia che aveva necessità di essere adeguata anche agli ultimi all'ultime novità intervenute a livello anche internazionale a partire per esempio dalla convenzione di Istanbul quindi da questo punto di vista la convergenza tra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta un gruppo di lavoro con il coinvolgimento anche della Commissione Pari Opportunità e del Comitato Regionale contro la violenza di genere ha portato all'approvazione appunto di una modifica normativa su questi due aspetti e dall'altro sull'ordine del giorno altrettanto importante in modo di vedere laddove si va a determinare ad avviare un percorso per un'ulteriore revisione complessiva dell'impianto normativo del 2007 e si incentiva la promozione di una serie di percorsi nelle scuole all'insegna del rispetto reciproco e della non violenza la violenza di genere è un problema che vede l'Italia sempre più coinvolta purtroppo è un problema che sta crescendo è cresciuto a dismisura durante la fase del Covid e nel periodo immediatamente successivo non passa praticamente giorno che le cronache non riportino se non un femminicidio o comunque attacchi violenti nei confronti delle donne è importante che sia possibile per queste persone che riescono a denunciare la violenza e vogliono tornare a rafforzarsi la propria vita che sia possibile per loro raggiungere facilmente i centri ed essere inserite in percorsi che gli permettano di ritornare ad una vita serena di riappropriarsi della propria vita e quindi di guardare con fiducia al domani è altrettanto importante che le persone che invece vengono a compiere questi atti gli uomini sia possibile anche per loro un percorso rieducativo attraverso quelle strutture che hanno tutti i criteri accreditati presso le regioni e negli accordi fatti tra lo Stato e la Regione io però ritengo che questo sia un tema che vada affrontato nelle scuole direttamente dalle elementari perché bisogna crescere la cultura del rispetto non bisogna arrivare al punto di dover rieducarsi dobbiamo proprio educarci affinché questo non debba mai accadere ed è importantissimo che le scuole abbiano un ruolo determinante perché molte persone dicono sì ma io mio figlio lo educo è vero tante persone educano i propri figli come si deve ma purtroppo chi nasce in una famiglia violenta non ha questa possibilità di essere educato in casa approviamo questa legge a poche ore di distanza da un altro drammatico femminicidio che si è consumato in Toscana è qualcosa che sconvolge le nostre coscienze che ci invita a fare qualcosa di concreto e immediato nei confronti di tutti quelli che sono le vittime ma soprattutto anche per chi esercita questa violenza e dovrebbe essere l'obiettivo anche di questa proposta di legge che purtroppo per come è stata impostata per la mancanza assoluta di finanziamenti ulteriori che appunto non sono previsti e non sembra essere rispondente a quelle che sono le drammatiche esigenze di questo momento storico ecco il motivo per cui seppur a malincuore abbiamo dato un voto di astensione anche perché all'interno di uno di questi articoli c'è un riferimento a uno sforzo di ricongiungimento relazionale che a nostro avviso può essere anche pericoloso va contro anzi quelle che sono le raccomandazioni degli esperti che invitano a non fare quell'ultimo incontro quell'ultimo appuntamento e di lasciare che le strade di due persone si separino specialmente quando in mezzo ci sono anche dei minori ecco il motivo per cui con dispiacere ci siamo astenuti ripromettendoci però di intervenire di nuovo su questa legge innanzitutto con dei finanziamenti che sono stati previsti invece nell'ordine del giorno al quale abbiamo votato a favore ma soprattutto con un'azione più incisiva dal punto di vista della programmazione regionale e dei contributi anche fattivi per i centri per la violenza per sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e soprattutto per la rieducazione per la prevenzione come ha detto anche la commissione pari opportunità di quelli che sono questi comportamenti il concetto il pensiero è sicuramente importante e noi siamo sostanzialmente d'accordo non nelle forme in cui è stato proposto perché ci siamo astenuti ci eravamo astenuti in commissione valutandone volendo valutare un pochino più dettagliatamente l'argomento la legge 57 del 2007 secondo noi è già sufficiente o meglio è migliorabile ma non con questa proposta di legge e con questo ordine del giorno perché sostanzialmente non dice molto l'ordine del giorno eravamo anche disposti a votarlo però era fin troppo specifico nella narrativa cioè si parla di maschilismo e noi avevamo chiesto di togliere questa parola perché era nella narrativa già un giudizio c'era già bullismo e era giusto sessismo e era giusto rispetto della persona e era giusto ma maschilismo sembrava quasi dare una sentenza in quella che era l'argomentazione per cui ci siamo astenuti concettualmente è ovvio che non si può che essere d'accordo sul tenere in considerazione la violenza di genere come un argomento attualissimo assolutamente da valutare da studiare da metterci le pezze laddove è possibile ma quella proposta di legge ci sembra non risolutiva oltre quello che c'è già come leggi questa era la nostra ultima intervista grazie per la cortesia e l'attenzione vi ricordo che Cronaca e commenti torna la prossima settimana grazie per la visione